Abbiamo approfittato di questa bella occasione per fare il punto su questioni di grande valore per i nostri territori. L'obiettivo è quello di dare in tempi certi risposte su temi che parlano di infrastrutture, della realizzazione dell'area di crisi a confine fra le due regioni e di queste scelte che ci possono attraverso un dialogo di alto livello mettere in condizione di realizzare tanti progetti che viviamo singolarmente come regioni ma che se vissute insieme possono dare un buon risultato. Pensiamo al tema della terza grossa autostradale piuttosto che del corregamento ferroviario e perché no quello delle ciclabili per un grande progetto adriatico di mobilità sostenibile. Lo possiamo fare perché condividiamo una visione che è possibile per progetti e per obiettivi lavorare assieme e con questo poter dare alle nostre comunità tante chance di crescita, di sviluppo, di lavoro di cui c'è tanto bisogno. Quindi chiamiamo un'alleanza sui progetti che io vedo francamente molto bene e che non vedo l'ora di trasformare in risultati proprio per poterla rafforzare e giocarla su tutti i settori, servizi, pensiamo al discorso della sanità, tutto quello che può diventare progetto comune a favore delle nostre comunità.